Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Ben trovati, dunque come avete visto da queste immagini raggiunte poco fa, Silvia Romano è arrivata al Casoletto, un quartiere nord della città di Milano. Ad accoglierla un lungo applauso, numerose le persone che si sono affacciate alle finestre e scese in strada per salutarle. A bordo di un SUV grigio scortata da carabinieri e polizia, la 24enne indossava un tradizionale vestito delle donne somale e si è tolta per un momento la mascherina mostrando un sorriso per poi entrare nel palazzo dove risiede la madre. Con lei c'era appunto la mamma ma anche la sorella, le uniche parole che ha pronunciato sono state rispettate questo momento per favore. Intanto sul suo rapimento emergono i primi particolari. Il diario dove scriveva i giorni della sua prigionia in Somalia è rimasto nelle mani dei rapitori. In base agli elementi forniti nel colloquio di quattro ore ieri con gli inquirenti, la ragazza è stata tenuta in ostaggio sempre dallo stesso gruppo terroristico islamista Al-Shabaab dopo essere stata ceduta dal commando armato formato da otto persone che l'aveva prelevata in un centro commerciale in Kenya nel novembre del 2018. Durante il colloquio con PM psicologa ha confermato di essersi convertita alla religione islamica e di chiamarsi Aisha. Gioia per la sua liberazione anche a Fano dove ha sede l'associazione per la quale la cooperante lavorava. La home page del sito è stata modificata non appena si è diffusa la notizia. Secondo Lilian Sora che è la fondatrice di Africa Milele Onlus, l'associazione appunto di volontariato con cui Silvia è partita, nel tempo in cui è stata rapita dice non ho mai smesso di indagare. Ho scoperto che Silvia era controllata, sospetto che alcuni componenti del commando abbiano dormito vicino alla nostra casa pochi giorni prima del suo rapimento. Silvia non è stata mandata sola a Ciacama il 5 novembre come qualcuno ha detto, spiega ancora Lilian Sora. È diventata una nostra cooperante ed è partita con due volontari. Ad aspettarli inoltre c'era il mio compagno che è il referente in Kenya della Onlus e un altro addetto alla sicurezza, entrambi Masai. I due volontari dovevano rientrare il 19 novembre e Silvia doveva andare con loro a Malindi per accogliere i nuovi arrivati che però hanno tardato di due giorni perché avevano trovato un volo più economico. Così Silvia, conclude la Presidente, la responsabile dell'organizzazione fanese, così Silvia è rimasta sola a Ciacama. Il 20 poi è stata rapita. E oggi, come abbiamo visto, il rientro a casa tra gli applausi e anche qualche polemica. Tragedia invece nel comune di Cagli dove un uomo, Roberto Girelli, di 50 anni, è morto nella sua abitazione a causa delle esalazioni di fumo provocate da un incendio. L'episodio si è verificato nella notte intorno all'1.30 in via Michelini-Tocci dove l'imprenditore agricolo celibe dormiva al piano superiore rispetto alla zona giorno in cui si è sviluppato il robo. Dai primi rilievi l'origine delle fiamme sembrerebbe accidentale, probabilmente dovuta a una carica batteria del cellulare. A scoprire il corpo senza vita del cinquantenne sono stati vigili del fuoco di Cagli e di Pesero, chiamati dai vicini di casa che avevano visto uscire del fumo dalle finestre chiuse. Il forte calore che si è prodotto ha causato diverse ustioni al corpo dell'uomo trovato a terra in camera sua, indagano i carabinieri. Nella regione Marche la stagione estiva prenderà ufficialmente il via il prossimo 29 di maggio, ma il 18 sempre di questo mese potranno riaprire molte attività commerciali. Definite anche le regole, le regole per l'accesso alle spiagge. Un ombrellone praticamente ogni 10,5 metri quadrati e due metri di distanza invece per chi prende lettini separati. Tutto questo è racchiuso in un protocollo che è stato illustrato questa mattina in videoconferenza dal presidente della regione Marche Luca Ceriscioli e da alcuni assessori. Ha seguito per noi la conferenza Lino Balestra. La ripartenza nelle Marche di diverse attività commerciali per il 18 maggio diventa sempre di più una realtà concreta. La giunta Ceriscioli ha messo a punto in collaborazione con le associazioni di categoria e lanci i protocolli di sicurezza sanitaria tanto attesi dal settore commercio per poter uscire dal congelatore dove è stato messo da oltre 50 giorni. Manca solo l'ok del governo, ma le Marche, assieme a Emilia Romagna e Abruzzo, sono le prime a presentare un protocollo per la riapertura. Estetisti e parrucchieri sono già pronti dopo che il test di venerdì scorso ha dato buon esito alla presenza del governatore e delle autorità sanitarie regionali. Per il settore invece legato al turismo, la stagione balneare prenderà il via il 29 maggio e con il volto nuovo ed insolito anche che le spiagge prenderanno a seguito delle disposizioni adottate. Gli ombrelloni saranno posizionati uno ogni 10 metri quadrati e potranno essere occupati solo da componenti dello stesso nucleo familiare. O meglio, si potrà prendere l'ombrellone con gli amici, ma non se ne potrà usufruire contemporaneamente ed il bagnino dovrà sanificare ogni volta sotto l'ombrellone arriva una persona non facente parte della stessa famiglia, di quello che lo aveva appena lasciato. La distanza minima poi tra un lettino e un altro dovrà essere di due metri, idem anche per i lettini affittati giornalmente. Sport a coppie o a squadre, scordiamoceli, almeno per il momento con la regione Marche, che però si riserva di modificare il protocollo qualora arrivassero diverse indicazioni dal governo e dà la possibilità ai bagnini di mettere a dimora ulteriori ombrelloni nelle aree sportive. Niente allargamento alle spiagge libere, quindi che rimarranno libere e dove varranno gli stessi criteri. Lettini e asciugamani, sempre a due metri di distanza, e l'ombrellone piantato a quattro metri dall'altro. La polizia locale avrà poi l'autorità per far rispettare le regole e vicilare sulla loro osservanza. Regolamentati anche gli accessi alle piscine, sia nei camping che nei bagni. Per ogni 10 metri quadrati e mezzo di superficie della piscina, quattro persone in acqua e lettini a bordo vasca, sempre a due metri. Inoltre, per i camping, dove il nodo sicurezza e soprattutto legato quello ai servizi igienici, è stato uno dei punti chiave e si è deciso di sanificare due volte al giorno e di igienizzare più volte. Ma l'estate non è solo spiaggia. I protocolli, già condivisi con l'INAIL, per dare garanzie ai marchigiani e ai turisti di trascorrere le vacanze in sicurezza, riguardano anche altri settori. Per quanto riguarda le strutture alberghiere, bed and breakfast e agriturismi, è obbligatoria la sanificazione completa della stanza ad ogni cambio cliente, mentre l'igienizzazione deve essere giornaliera. Per evitare assembramenti, le strutture dovranno adeguarsi con segnaletica che indichi percorsi e avvisi alla clientela, che dovranno abbandonare la modalità buffet al ristorante e dove potranno essere serviti solo pietanze già impiettate. Capitolo ristoranti, fatto salve tutte le osservazioni individuali già stabilite in precedenti protocolli, i ristoranti che riapriranno il 18 di maggio potranno accettare solo clienti che hanno effettuato prenotazione telefonica, clienti che a loro volta dovranno precisare se sono o meno della stessa famiglia, questo per permettere al ristoratore di apparecchiare secondo le nuove regole, ovvero familiari o conviventi, niente pannello in plexiglass, amici, barriera in plexiglass o seduti ad un metro l'uno dall'altro. Sempre oggi è stato annunciato che si sta lavorando alla riapertura dei centri estivi e alla riattivazione di quei servizi di tipo sociale come i centri diurni con i quali c'è stata una forte collaborazione tra comuni, molti dei quali hanno già inviato un calendario delle varie riaperture alla Regione. E come avete visto nel tavolo dei relatori c'era anche Maurizio Mangialardi, l'attuale sindaco di Senigallia, ma che è anche presidente di Anci Marche. Lo abbiamo intervistato. Mangialardi, quello di oggi è un risultato importante. L'Anci ha avuto un ruolo decisivo in questa nuova indirizzo che è stato dato dalla Regione. Devo dire che la costruzione dei protocolli che anticipano una serie di provvedimenti che hanno poi ricadute di carattere economico sui nostri territori è stato molto importante perché il Presidente Ceriscioli ha voluto costruirli con i comuni. Ovviamente l'Anci ha dato una mano in questo percorso molto serrato soprattutto con gli assessori Bora e Pieroni. Ci siamo sentiti e loro tecnici in questi cinque giorni anche tre volte al giorno per affinarlo. Oggi l'abbiamo presentati alla Regione. Spero che nell'incontro pomeridiano che il Presidente Ceriscioli ha con il Governo possano essere accettati in modo da poter avviare un processo di velocizzazione della ripresa. Ecco, diciamo che tutto comunque sta anche nella buona educazione nel rispetto delle regole da parte dei cittadini perché purtroppo la spalla di diamocle delle curve epidemiologiche è sempre dietro l'angolo. Sì, mi sembra che i dati marchigiani siano molto importanti sul piano della positività e quindi stiamo andando molto molto bene e quindi va un grande grazie ai cittadini che hanno lavorato e che ci hanno permesso questo risultato. Ovvio che dobbiamo tenere. Dobbiamo stare dentro le regole. Riapriamo le attività però vale il distanziamento sociale vale le regole che ci siamo dati. Sto pensando per esempio per i balneari siamo partiti da un documento molto complicato oggi arriviamo a dire 10 metri quadrati per ogni ombrellone come pezzatura minima vuol dire che c'è tanta possibilità l'importante è che arriviamo al 29 di maggio ovviamente con le regole che sono condivise come abbiamo fatto con le associazioni di categorie e sono rispettate dagli imprenditori e dai cittadini. Ultimo sopravuogo oggi del Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli alla Covid Hospital di Civitanova Marche accompagnato dall'assessore Sciapichetti e dal consigliere Micucci ad accoglierlo Bertolaso che ha illustrato l'ultimazione dei lavori realizzati a tempi di record che permetteranno di vedere la struttura operativa entro pochi giorni. Tempi straordinari ha detto il Presidente e costi contenuti una grande attenzione per riuscire a realizzare tutto questo con le cifre giuste oggi abbiamo la grande opportunità di poter utilizzare questa magnifica struttura per la fase finale del Covid permettendo ai medici di scoprire tutte le caratteristiche specifiche di questo ospedale in modo che se dovesse esserci la necessità anche in futuro sarebbe possibile partire subito senza passaggi intermedi. Grande soddisfazione anche per Guido Bertolaso che ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione della struttura definita un esempio per tutta Italia sono guarito dal Covid ed ora sono immune ha aggiunto Bertolaso quindi donerò il plasma e lo farò a Pesaro e sulla questione del plasma nessun veto dalla Regione Marche alla sperimentazione sui malati contagiati da coronavirus perché la Regione non ha questo potere Ceriscioli ha dunque smentito le affermazioni della Lega su uno stop da parte della Commissione Etica Regionale sulla sperimentazione oggi è arrivato il verbale della Commissione ha spiegato in giornata i proponenti della ricerca dunque risponderanno non c'è stata nessuna bocciatura insistito ma solo una richiesta di chiarimenti tra oggi e domani si chiuderà questa vicenda che ha suscitato un polverone le Marche hanno chiesto di aderire alla sperimentazione secondo il protocollo della Toscana tutta la struttura dunque è pronta speculare sulla sensibilità di persone malate per dire cose false attaccato Ceriscioli dimostra quello che si è tra oggi e domani si chiude questa partita e si vedrà chi ha detto falsità i test serologici sono stati effettuati anche nei comuni di Terre Roveresche nel Pesarese il comune ha avviato infatti a proprie spese uno studio epidemiologico per capire quanto il virus sia circolato all'interno della comunità uno screening è riservato ai residenti nel comune di Terre Roveresche 200 abitanti circa potranno sottoporsi ai test serologici per la diagnosi del Covid-19 ad annunciarlo è stato il sindaco Antonio Sebastianelli durante una diretta Facebook l'obiettivo ha spiegato il primo cittadino è quello di verificare quanto e in che modo il coronavirus sia circolato nella comunità Terre Roveresche è il primo comune marchigiano ad essere partito con questa iniziativa su base volontaria utilizzando il metodo chiamato quantitativo cioè mediante un prelieve in vena lo studio epidemiologico è stato organizzato con la fondazione articolo 32 e al momento dagli esiti delle 155 persone già sottoposte al test è emerso che il 12% di esse è venuto a contatto con il virus e ha sviluppato anticorpi sono state riscontrate immunoglobuline di classe IgM e IgG la differenza è che le IgM sono quelle che vengono prodotte dal nostro corpo dalle nostre cellule dai nostri linfociti come difesa ai patogeni che arrivano quindi anche il virus anche il coronavirus e vengono prodotte nella prima fase quindi sono immunoglobuline particolari vengono prodotte all'inizio di qualsiasi infezione o di origine batterica in questo caso di origine virale poi piano piano queste lasciano lo spazio all'IgG che sono le immunoglobuline che vengono prodotte verso la fine quando diciamo uno ha quasi sconfitto il virus e non è più contagioso eccetera nel primo caso le persone si sono messe in quarantena perché ancora potenzialmente contagiose dopo un primo tampone dovranno farne altri due a distanza di 24 ore per verificarne la negatività in questa prima fase abbiamo individuato le categorie che sono maggiormente esposte con il pubblico e quindi chi ha un certo tipo di attività piuttosto che altro le forze dell'ordine i dipendenti comunali i volontari che comunque sono stati impegnati e sono tuttora impegnati nella consegna di medicinali mascherine per l'aiuto della popolazione contattate voi queste persone oppure c'è un modo per chiedere informazioni quindi prenotare quelle delle categorie anche perché siamo un comune piccolo quindi riusciamo conosciamo insomma non dico tutti ma quasi contattiamo noi negli altri casi però se il cittadino vuole può scrivere a un'email del comune che il futuro abita qui chiocciolacomune.terreroveresche.piu.it dove può chiedere delle informazioni informazioni e anche esprimere la possibilità qualora ce ne fosse la possibilità essere sottoposto al test perché comunque il test sierologico dà un'idea di come questo virus è circolato all'interno della popolazione perché chiaramente il test è fatto agli asintomatici e di conseguenza poi adottare dei provvedimenti adeguati esatto capire come fare come impostare la fase che viviamo adesso ma anche la ripartenza ecco questo fine settimana è andato abbastanza bene gran parte della persone e delle persone si è comportata in maniera disciplinata così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che su Facebook ha commentato il comportamento tenuto dai cittadini questo weekend invitiamo tutti a rimanere sparsi senza concentrarsi al mare andando alla scoperta della campagna lo scopo ha detto Ricci è di non indirizzarsi negli stessi luoghi e vivere al meglio tutti gli spazi della città non abbassiamo la guardia ha concluso il sindaco mi rivolgo soprattutto alle compagnie di giovani e di ragazzi ASET l'azienda pubblica fanese informa che da oggi è possibile accedere senza prenotazione al centro di raccolta differenziata in via dei platani a Fano gli ingressi continuano ad essere contingentati e regolati dal personale che darà le necessarie indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti i cittadini sottolinea l'azienda sono invitati a indossare i dispositivi di protezione prima di accedervi per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio sarà possibile prenotare il servizio telefonando al numero che vedete in questo cartello in sovraimpressione e molte lamentele sono giunte in redazione in questi giorni in cui tanti sono potuti uscire di casa e riappropriarsi anche di quelle aree verdi di parchi in giro per la città hanno protestato per l'incuria del verde pubblico in particolare nella zona dei passeggi e di altri parchi della città di Fano Francesco Salvago le limitazioni imposte per contenere gli effetti del nuovo coronavirus hanno avuto ripercussioni evidenti sul patrimonio forestale della città a farne le spese sono stati anche i numerosi parchi che sono tornati a disposizione di cittadini lo sblocco del lockdown dal 4 maggio ha consentito l'ingresso alle aree verdi con divieto di giochi e attrezzature ricreative le quali sono state interdette e delimitate dal comune l'arrivo della primavera rilancia l'eterno problema dello sfalcio della vegetazione dei parchi e giardini pubblici la zona passeggia ad esempio è sovrastata dalle erbacce selvatiche che invadono gran parte dell'area frequentata quotidianamente da molti runner bambini e anziani subito l'abbiamo notato io c'è stato tanto tempo che si poteva tagliare che non andavano genti noi subito abbiamo notato che non si poteva pulire guarda anche diamo anche noi una mano se si può io vengo io ho spazzato io da sola qua per passare per mettersi seduto eh purtroppo sì d'altra parte sono stati chiusi tanto tempo no ma ecco trovarli così dispiace però adesso aspettiamo con pazienza come tutte le cose anche qui cureranno all'incuria del verde pubblico segnalato da diversi cittadini si aggiunge anche la presenza di cestini di rifiuti pieni di bottiglie di vetro e foglie che invadono sempre più lo strato di breccia lungo i giardini da noi l'hanno aperto giovedì io credevo che a prenderlo anche qualche giorno di ritardo ci potesse essere una pulizia niente l'erba è alta come le panchine perché adesso invece è da pulire e la devono richiudere per fare i lavori perché sennò è inutile che pulisci sempre quanto c'è poi passeggi l'unico polmone verde che noi abbiamo in città e periferia niente io dico solo tenerlo pulito non soltanto tagliando l'erba anche tutto pulirlo proprio guarda le foglie che ci sono per terra l'apertura dei parchi secondo i cittadini non è stata all'altezza delle aspettative anche i piccoli giardini che in alcuni quartieri rappresentano l'unico polmone verde hanno risentito dell'assenza di interventi come queste aree di fenile segnalate da un nostro reporter di strada in altre zone del quartiere invece più pericolose gli addetti hanno già provveduto a tagliare l'erba sono 35.000 le mascherine distribuite a Fano lo scorso fine settimana grazie alla consegna dei dispositivi di protezione nei 22 gazebo allestiti in diverse zone della città è stata raggiunta oltre la metà della popolazione il risultato è stato possibile grazie alla collaborazione dei tanti volontari che fanno parte delle associazioni di quartiere della Proloco e della protezione civile il Comune di Fano farà sapere le modalità con le quali verranno distribuite le mascherine rimaste sabato scorso la ditta FR Impianti che ha sede a Calcinelli nel Comune di Colli al Metauro ha donato alla protezione civile un sanificatore di ultima generazione il dispositivo ha commentato il sindaco Stefano Guzzi sarà dato in uso prioritario alla potes di Calcinelli ed è indispensabile per sanificare e igienizzare sia gli ambienti che i mezzi di soccorso e prima di chiudere vi ricordo che lunedì prossimo dopo il telegiornale qui nei nostri studi in diretta tornerà il sindaco di Fano Massimo Seri e con lui faremo il punto della situazione sulla fase 2 dai contagi ai dispositivi di protezione gli aiuti economici e alle famiglie e parleremo anche di economia di imprese ovviamente per poter intervenire potete chiamare come sempre il numero che vedete in questo cartello oppure inviare brevi messaggi di testo al numero che ormai conoscete chiudiamo il nostro telegiornale adesso invece con un video che ha prodotto il Ministero della Salute dedicato ai consigli per viaggiare in sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico e su questo e con questo ci salutiamo ci diamo appuntamento domani mattina alle 7.45 con occhio giornale la rassegna stampa arrivederci grazie a tutti